Imparare l'inglese divertendosi, la classica didattica in aula alternata a momenti di gioco e di creatività. Questo prevede il campus in lingua inglese per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, proposto per quest'estate dalla British School di Campobasso. Lo scopo del Summer Camp British Kids è quello di apprendere la lingua in modo facile e intuitivo, in compagnia di nuovi amici e insegnanti madrelingua. Quindi si apprenderà l'inglese dal canto alla passeggiata, dalla merenda in un prato o al bagno in piscina, facendo giochi di squadra e cacce al tesoro. Quindi dalle pratiche più quotidiane a quelle di svago. Il tutto sempre con la presenza costante di un madrelingua inglese. Molte le attività di svago, ma anche visite guidate in aziende di successo legate al nostro territorio e soprattutto tanto sport, proprio per sottolineare l'importanza che questo riveste nell'educazione dei più piccoli. Noi cerchiamo di unire lo sport e il divertimento proprio perché da sempre sono un connubio perfetto per insegnare ai bambini quelli che sono i valori anche più semplici e più belli, quindi di rispetto, di convivenza con le altre persone e quindi anche uno spirito di gruppo. Abbiamo deciso di scegliere non gli sport soliti che magari vengono praticati, come può essere il calcio o la palla a volo, ma abbiamo deciso di inserire degli sport di nicchia. Abbiamo deciso di inserire il rugby perché? Perché spesso viene visto come uno sport comunque violento, perché molto di contatto, però è anche uno sport che ci insegna a vivere veramente in squadra e questo lo possiamo vedere quando alla fine di ogni partita, a prescindere da quello che è il risultato, quindi che uno abbia vinto o abbia perso, ci si riunisce tutti insieme a festeggiare al terzo tempo. Oltre al rugby sarà possibile praticare la scherma, le arti marziali, l'arrampicata e il tiro con l'arco. Il campus prenderà il via il 12 giugno e si concluderà il 28 luglio.